Abbard celebra qui a Ginevra i suoi primi 70 anni di storia, lo fa direi nel modo migliore perché porta a casa il record nei volumi di vendita nel 2018, quasi 25.000 macchine, il 36% dei volumi in più dell'anno precedente, ma lo fa anche con un altro record, con il campionato mondiale e il campionato europeo nella categoria RGT. Quindi inizia un 2019, un anno importante nel modo migliore. Le celebrazioni sono già partite, abbiamo appena lanciato la gamma settantesimo, sia su 595 che su 124, due vetture rinnovate e anche dotate di un badge, dedicato all'anniversario, un badge che renderà le vetture vendute nel 2019 davvero uniche e questo per gli appassionati e i collezionisti del marchio Abarth è davvero una grande novità. Continuano i festeggiamenti qui a Ginevra, abbiamo portato due novità, una su 595 e una su 124. Su 595 abbiamo riportato un naming, un logo a cui i nostri clienti, soprattutto gli appassionati, sono davvero molto legati. SS, 595 SS, qui a Ginevra, con 180 cavalli, turbo, cerchi, racing, freni, Brembo e scarico a Karapovic. Una vettura davvero dedicata alle appassionati delle performance, ma anche 124 rally tribute, appunto per festeggiare le vittorie nel mondo del rally dell'anno scorso e anche in questo caso tanti cavalli, 170, turbo, cerchi OZ racing, freni Brembo e scarico Record Monza. Due vetture per far divertire tutti i nostri clienti. Grazie a tutti.